Oggi è venerdì, 19 marzo, ultima seduta settimanale degli allenamenti, ci troviamo al nuovo di Via Olimpio del Serpentano, qua abbiamo il gruppo dei giovanissimi di Mr. Gabriele e di Felice, stanno allenando e preparandosi per l'ultima gara di mercoledì, posticipata mercoledì la gara interna contro il Miglianico Calcio, l'ultima gara di campionato, di questo meraviglioso campionato dove i nostri ragazzi si sono distinti sia per il bel gioco dimostrato, sia per la serietà, il fair play, ecco il mister che richiama i ragazzi a più grinta, ecco Enrico, tutti qua, mister, Lele che si accinge la rimessa, prende Gianluca, è l'ultimo allenamento della settimana, prima della gara di mercoledì contro il Miglianico Calcio, l'ultima giornata di campionato, la gara è prevista alle ore 18.30 di mercoledì su questo campo, tutti pimpanti i nostri giovanissimi, si è aggregato anche un paio di ragazzi esordienti, manca solo Michele che è un po' malaticcio, ha avuto i suoi problemi, di mal di gola, si sta prendendo gli antibiotici quindi è un po' deboluccio e non rischiamo con l'allenamento odierno, sicuramente mercoledì è pronto per fare la sua parte, ecco Lele, Lele che prende la palla, parte Lele, parte Lele come una furia, una freccia e si è fermato.